Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Oceani, l'ultimo gioco della serie Evolution, edizione Northstar Game Studio e portato in Italia dalla Pendragon Edizioni, che io ringrazio veramente di cuore per avermi offerto questa copia. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa, anche Oceani edizione limitata, quindi l'edizione proprio limitata, quella del Kickstarter, con ovviamente Stretch Goal e contenuto aggiuntivo, sono più carte, più carte eventi e cose del genere. E io ringrazio veramente di cuore la Pendragon per avermi offerto questa copia per la recensione, ragazzi. È un grandissimo onore collaborare con voi, si sta per festeggiare un anno e grazie, grazie davvero immensamente. Ma ve lo presento, ora a breve, dopo la sigla. Oceani è un gioco che, ve l'ho detto, è uscito da pochissimo tempo, con l'editore italiano la Pendragon, dai 12 anni in su, sì, secondo me per il tema trattato ci sta, però vi dico la verità, è talmente facile anche come meccaniche, che io me la sento anche tranquillamente di abbassarlo di un anno o due, tranquillamente, da due a quattro giocatori, quindi non è assolutamente un gioco, non ci sono nemmeno le regole per giocarlo in solo con un'intelligenza artificiale, e la durata delle partite è una sessantina di minuti, sì, forse poco di più, perché comunque è un gioco veramente veloce, ed è un gioco molto interessante, perché ci riporta nel primo stadio della vita sul nostro pianeta, poco prima, e tra l'altro elemento che andremo a giocare anche in gioco, poco prima dell'esplosione del Cambriano, e ovviamente da lì sono iniziato a spuntare la maggior parte delle razze, ovviamente sottomarine, subacque, nell'acqua, la prima vita è nata nell'acqua, e sono esplose un casino di razze, quindi da lì, dall'esplosione del Cambriano, si è proprio originata la vita sul nostro pianeta Terra, e gli scienziati tutt'oggi anche lì se la sanno spiegare, ma soltanto in parte, questo fenomeno molto strano, si va a pensare che fosse anche dovuto, soprattutto penso sia normale, alla quantità di ossigeno, all'ossigenazione dell'acqua, però se proprio dovesse dare alla scienza di oggi una vera e propria ragione su questa esplosione del Cambriano, quindi della vita, non se la saprebbero dare. Ed è un gioco che ci vede nei panni di una specie di Dio, creatore della vita, tutti i giochi della serie di Evolution sono ambientati sulla Terra, questo è il primo, poi erano ambientati a volte anche in acqua, ma questo è totalmente ambientato negli oceani. Intanto, unboxing, come vedete la scatola, anche il disegno molto bellino, ad acquarello, veramente molto molto interessante, e la scatola è l'edizione limitata, vedete, l'editore da North Star Game Studio, e portato in Italia l'editore italiano dalla Pendragon. Scatola bella grande, e anche bella profonda, perché c'è un bel po' di roba dentro, e soprattutto è organizzata anche bene. Apriamo. All'interno c'era una letterina, che però era messa sopra la scatola, quindi quando mia moglie ha aperto il pacco, giustamente l'ha aperta con un trincetto, non pensava che ci fosse direttamente a contatto una letterina, e l'ha tagliata un po', però va bene, l'abbiamo salvata. E questa è una lettera che la Pendragon mi ha scritto direttamente, la vado a leggere. Caro Andrea, ti mandiamo questa lettera per dirti grazie. Grazie per aver chiesto di recensire uno dei nostri giochi, e grazie anche a persone come te la ragione del nostro successo. Ti inviamo la copia di Oceani che ci hai chiesto, sperando che ti permetteranno di passare qualche ora di divertimento. Seguici sul nostro sito e sulle nostre pagine, vabbè, Facebook, Twitter, Instagram, tutti quanti i loro social, che tanto comunque trovate sul sito. Ti auguriamo tante fantastiche ore di gioco. Pendragon Game Studio, Kelly Stocco. Io vi ringrazio di cuore, ragazzi, perché non me l'aspettavo di trovarci una cosa del genere dentro, però mi ha fatto un piacere assurdo, e come vi ho scritto anche per mail, la cosa più bella che voi editori ci potete dare è assolutamente la vostra fiducia. Quindi ragazzi, grazie. E questa qui, a parte il tagliettino, veramente me la incorniscio, perché per me è una cosa che mi dà molto orgoglio. Grazie. Regolamento di gioco, che ragazzi, è una spruzzata di pagine. Veramente facilissimo, anche perché le cose da spiegare sono poche, pochissime. Cioè, le regole ce ne ha veramente poche in questo gioco. Però comunque è scritto bene, organizzato bene, poi l'avete visto. Metà delle pagine sono portate via da riffigurazioni, immagini e cose del genere. Quindi veramente da leggere c'è veramente, veramente poco. E questa è l'esplosione del Cambriano. Schede riassuntive, per come funziona il turno, e poi leggenda di tutte quante le icone che trovate sulle carte, o comunque sulle planche di gioco. Una guida di riferimento, che anche qui ci illustra tutte quante le carte e quello che c'è nel gioco. Una lettera scritta direttamente dalla North Star Game Studio, che ci ringrazia per la campagna Kickstarter, che è stato un bel successo e cose del genere. Quindi un altro bel foglio che sicuramente ti fa piacere avere. Questo è un foglio che ci dice se è la nostra prima partita di giocare con le regole semplificate che ci sono scritte qui, tralasciando tante regole da parte per poi inserirli in un'altra partita. Una specie di piccolo tutorial, e poi qui dietro ci fa vedere come dobbiamo montare la scogliera e le zone oceano. Tutti quanti i pescettini, che servono ovviamente sia per indicare i punti che facciamo, che sono anche la nostra diretta evoluzione della specie. Riserva, che è una zona dove dentro dobbiamo mettere 60 pescettini che servono soltanto da mettere in gioco quando tutto quanto l'oceano è stato svuotato. Anche qui in bustata c'è un altro bel po' di roba. Poi ve l'ho detto, qui c'è la plancetta, quella centrale, che ora va costruita dove vedete c'è la scogliera. L'oceano, gli abissi che sono più scuri mano a mano che si va sotto, e tutte le altre cose da ritagliare, da mettere a posto. Ah, rettifico, tre zone dell'oceano e questa qui colorata è la scogliera. Bustine, ovviamente che c'è un bel po' di token e cose da conservare, anche questo qui il reef da montarlo ad attaccarci. Qua giù ci sono le plancette delle specie, quindi quando volete creare una nuova specie dovete prendere una di queste che sta a rappresentare che avete dato vita a una nuova specie. E poi un bel po' di carte, anche perché questo gioco si basa tutto sulle carte. Carte nere sono delle carte abisso che si potranno usare solo durante l'esplosione del Cambriano, poi le carte oceano e superficie, queste qui chiare dietro, e poi tutto il resto delle evoluzioni carte specie che sono qua dentro. In più c'era questa bustina con dentro delle carte promo, che ora apriamo e vediamo cosa c'è. Delle carte olografiche, che mi piacciono anche come stile e tutto quanto, e qui delle carte promo, uguale anche qui con la scritta olografica tutta quanto sopra, sempre relegate all'abisso. Bello, bello da morire come idea. Allora, questo è il tavolo da gioco per il setup di una partita a due giocatori. In una partita a due giocatori dovete mettere nella scogliera e nelle zone oceano, zona di superficie, vedete, zona intermedia e abissi, dovete mettere 25 token con questi pescettini colorati arancioni. Nel caso di una partita a 3-4 giocatori invece si vanno a mettere anche pesci di altri colori tipo il pesce giallo e poi c'è anche il pesce nero. Più ci sono altri tipi di pesce, questi qua giù, che possono anche questi, uguale, essere introdotti, questi token. Comunque, qua giù davanti avete la scogliera, posto da cui ovviamente tutte quante le specie andranno a mangiare, gli oceani e poi dal piccolo mazzo degli eventi, che è questo piccolino qui, dovete pescare due eventi casualmente e li dovete mettere in questi riquadri qua. Vedete, l'abisso non c'ha la sua parte evento, li potete mettere, lo dovete mettere uno qui e uno di qua. Vedete, uno è blu e uno è viola. Comunque nel caso potreste pescarne anche due blu o due viola. Poi tanto vi descrivo dopo nella fase eventi a cosa servono e più 25 pescettini. Mazzo di superficie, da quell'inizio dovete pescare una e una sola carta, la dovete scartare, questo è il mazzo degli scarti e vedete in fondo c'ha un codice, un numero, scusate, di migrazione. Con quel codice di migrazione che c'ha delle regole importanti durante il gioco ma nella fase di destra può dire che dovete prendere nove pesci e spostarli dalla scogliera alla zona 1 e poi nove pesci che li spostate dalla zona 1 alla zona 3 qua giù in fondo. C'è un meccanismo per far muovere un pochino i pesci. Anche perché vi ricordo la scogliera, il riff, è ovviamente la zona dove tutte le vostre razze andranno a mangiare quando non attaccheranno. E questo poi è un schermo del giocatore piccolino perché in questo gioco si gioca, ovviamente le vostre carte devono essere coperte, il giocatore avversario non deve mai sapere cosa state per giocare, mettere i pescettini come vi farò vedere dopo e saranno la vostra riserva di punti a fine partita. Ultimo ma non meno importante il mazzo degli abissi che viene pescato soltanto quando ci sarà l'attivazione del cambriano quindi l'esplosione del cambriano e vedete qui davanti ci sono le prime due carte abisso nel pool genetico che vi farò vedere successivamente. Comunque ciascun giocatore in una partita a due scegliete voi chi sarà il giocatore principale in una partita comunque a due giocatori ciascun giocatore deve fare quattro fasi quattro azioni che sono giocare carte la prima nutrizione invecchiamento e pescare carte ciascun giocatore deve risolvere tutte queste quattro fasi tutte quante prima di passare alla mano al giocatore successivo. La mano del giocatore di partenza e di partenza e sempre deve essere di sei carte quindi una due tre quattro cinque sei pescate solo dal mazzo superficie dal mazzo abissi lo vedrete successivamente. Comunque questa è la mano del giocatore una possibile mano di carte che gli sono uscite questa è la mano di un giocatore che ribadisco deve essere nascosta e ciascun giocatore nel suo turno e nella prima fase di giocare carte ne potrà giocare una e una soltanto mentre invece quando ci sarà l'esplosione del cambriano ne potrà giocare due comunque nel primo turno e nei primi turni soprattutto si può giocare una carta soltanto le carte possano essere giocate per mettere un tratto su una specie esistente o una nuova specie questa è la tabellina della specie ora ve la metto così però vanno sempre messe con questo rivolto verso l'alto comunque ve la metto così e vedete c'ha un lato blu perché voi su questo lato blu ci dovrete mettere accanto le carte evoluzione ora io posso giocare un tratto posso giocare una carta sulla mia specie il numero di tratti massimo consentito per una specie è tre almeno che la specie non dica magari una regola particolare che ne potete mettere di più comunque di solito è tre quindi vuol dire che io posso mettere tre di queste carte che ho evoluzione qui accanto per far evolvere la mia specie posso mettere più volte la stessa ad esempio potrei dire io voglio una specie che sia un super predatore ricordatevi sempre ragazzi che ne potete mettere una a turno ora vi faccio conto se siamo andati avanti due o tre turni potrei mettere questa potrei rimettere un altro super predatore perché magari io voglio creare una specie che è tipo un megalodonte una cosa del genere e poi potrei mettere un filtratore qui accanto messe così che vedete accanto dei simbolini colorati che sono questo verde è il foraggiamento le creature che hanno un valore di foraggiamento pescano tale valore dalla scogliera perché tutte 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 le creature vanno sempre a pescare dalla scogliera quindi da qua giù fino a che ovviamente la scogliera si svuota e inizieranno ad andare a mangiare qui quando questa si svuoterà inizieranno ad andare a mangiare di qua comunque inizialmente dalla scogliera e quindi il risultato verde questo non ha niente perché un super predatore non va a mangiare nella scogliera un predatore caccia quindi non ha bisogno di andare a mangiare pescetti però ha un valore di attacco di 3 questo qui che vedete giallo invece è il valore di difesa quindi vuol dire che ad esempio se una creatura con un valore di 3 mi attacca farà soltanto un punto di danno perché alla fin fine gliene paro 2 quindi questo è un valore che è andata a scalare ad assorbire mentre invece un filtratore non ha valore di attacco tipo una balena una cosa del genere però mangia direttamente dalla scogliera quindi io con una creatura del genere nel caso andassi a fare un attacco avrei un valore di gli attacchi sono quelli rossi avrei un valore di 3 più 3 6 durante un attacco durante una difesa invece ha un valore di 2 2 4 però allo stesso tempo possa anche andare a foraggiare possa anche andare a mangiare dalla scogliera con un valore di 5 oppure invece che giocare una carta possiamo usare il valore di migrazione vedete che tutte le carte in basso a parte alcune carte hanno anche una discrizione perché fanno anche un'azione particolare comunque hanno anche un valore di migrazione questo vuol dire che io invece di giocare questa carta ok per evolvermi quindi a parte ce ne ho già 3 però per evolvere ulteriormente la mia specie io posso giocare questa carta per fare una migrazione e possiamo spostare con questa azione di migrazione pesci quindi risorse come queste qui dalla nostra plancia che ora vi farò vedere quando ci si mette direttamente a una zona dell'oceano quindi da qui le sposteremo qua giù come vi ho detto la nutrizione che è il che è la seconda fase che è il foraggiamento quindi nutrizione io prendo sempre l'esempio di questo super predatore che abbiamo creato però che va a pescare anche come vedete con un valore di 5 quando è il mio turno di nutrirmi ha un valore di 5 voi dovete sempre prendere quanto è il vostro valore di nutrimento non potete prendere né più nemmeno quindi andate a prendere 5 pescettini che ovviamente si prendono sempre dalla scogliera perché si parte da qui e poi si va liberare questa liberare questa quest'altra fino a svuotare tutte quante quindi prendo i 5 pescettini e le vado a mettere qua giù quando e a questo punto mi sono foraggiato di 5 quando questa plancettina quindi questa specie di super predatore che ho creato una specie di come vi ho detto prima megalodonte dovesse essere tutta piena su questa qui con lo scheletrino non ci potete andare a mettere nulla perché nel caso una qualsiasi azione ve la riempisse tutta quanta più mettesse anche un pescettino su questa qua giù in fondo vuol dire che siete nel problema di sovrappopolazione e quando andate in un problema di sovrappopolazione dovete prendere levare 5 dall'attuale plancia 5 punti 5 pescettini dall'attuale plancia e rimetterli direttamente nella scogliera o comunque nella prima zona libera quindi nel caso fosse piena dovreste levarne 5 per buttarle laggiù e lasciare tutto lo stesso perché c'è una sovrappopolazione e quindi dovete iniziare un po' a smaltire la prima fase come vi ho detto era il foraggiamento la terza non ve la faccio vedere ragazzi è soltanto una difesa quindi quando v'attaccano togliete il suo livello e poi c'è un attacco che è questo qui mettiamo caso un altro giocatore stia a sua volta involvendo la sua specie e abbia qua sopra sulla plancia mettiamo caso anche lui come noi 5 pesciolini e poi li chiamo pesciolini ma sono i membri della vostra specie li dovete vedere come i membri della vostra razza comunque mettiamo caso che questo sia il mio avversario io lo possa andare ad attaccare e come vi ho detto prima devo sommare i due valori quindi 3 più 3 6 lo vado ad attaccare lui ovviamente scalerà la sua difesa quindi da 6 diventa 4 io ho fatto 4 quindi direttamente il danno che gli infligga è 4 e vado a levare i pescettini dalla sua qua giù in fondo glieli vado a far scartare e li metto sulla mia quindi è una stessa azione identica come il foraggiamento solo che vi dovete ricordare che il foraggiamento è dal mare dalla scogliere o dall'oceano l'azione di attacco invece l'andate a prendere dalla plancia di un altro giocatore occhio che anche qui non potete mangiare quanto volete voi dovete mangiare quanto è il vostro valore quindi se sfondate e andate fuori risete un'altra volta in sovrappopolazione arriva la fase di invecchiamento in cui tutti i giocatori devono rimuovere uno e uno soltanto dei membri della propria specie dalle loro plancette quindi uno anche se ce n'è uno soltanto lo devi togliere ne devono togliere uno e metterlo dentro e metterlo dietro il loro segnapunti lo devono mettere qua dietro perché come dire hai guadagnato un punto sei riuscito a fare invecchiare ed evolvere una delle creature che vanno qui dietro durante invece la fase dell'esplosione del cambriano dovete mettercene direttamente due quando una plancia rimane vuota quindi non c'è più nemmeno un segnalino sopra scartate le carte che ovviamente dovranno andare nella pila degli scarti che è questa qua sotto e togliete la plancetta a quel giocatore e quella specie è estinta completamente se è attuata che ora ve lo faccio vedere se è in atto la fase del cambriano quando si vanno a pescare carte un giocatore può pescare dal mazzo di superficie tante carte fino ad averne sei in mano e può scartare tutte quelle che hai in mano quindi magari queste due che ho non mi interessano le vado a scartare e ne pesco altre quindi ciascun giocatore può pescare fino ad averne sei in mano o altrimenti se esplosa la fase del cambriano può prenderne una ma una soltanto dal mazzo degli abissi ne può prendere una dal pool genetico quindi può scegliere una di queste due oppure se non le vuole ne può pescare tre di queste ne sceglie soltanto una e le altre le rimette sopra una per pool genetico quindi una qui e una qui la fase del cambriano si attiva è una carta nella prima zona c'è uno che è qui si attiva quando io ora ve li sposto un po' a casaccio per farvi vedere quindi immaginatevi che qui non c'è più niente ovviamente qui non c'è più niente al momento che qui non c'è più niente sotto c'è questa carta esplosione del cambriano che cosa ci dice giocate due carte in turno per turno invece di una come vi ho detto all'inizio le specie invecchiano due per turno quindi nella fase di invecchiamento prima dove vi ho detto ciascuno leva un pesce leva un membro della sua specie ne dovrà levare due quindi occhio guardate sempre di non rimanere a zero perché sennò la specie è estinta però durante l'esplosione del cambriano ci dà la possibilità a questo punto di fare intervenire gli abissi e di andare a pescare direttamente negli abissi perché le carte abisso non si possono pescare mai fino all'esplosione del cambriano gli eventi blu che si attivano soltanto una volta quando la loro zona è completamente ripulita quindi quando qui non ci sono più pesci e sono tutti da altre parti questo evento si attiva una sola volta quelli viola invece si attivano ogni volta che la loro zona è vuota quindi se diventa vuota si attiva magari poi si riempie per varie regole o spostamenti che facciamo noi o anche la migrazione come vi ho detto prima poi magari si risvuota un'altra volta quindi l'evento si riattiva e l'evento ovviamente appena si attiva va risolto subito le carte che vedete abisso queste qua le dovete pagare sono le uniche carte che per mettere in gioco dovete pagare vedete hanno la migrazione un valore di migrazione come tutte quelle altre carte di superficie però che vanno pagate e per pagarla che ne so per prendere questa dovete ovviamente andare a prendere a levare uno dei vostri pesciolini e ovviamente metterli in una delle zone che vuoi di vostra preferenza quindi nella scogliera o dall'altra parte sono ovviamente carte molto potenti e quindi per essere così appunto giustificate gli hanno messo un costo altra cosa importante quando si va a fare un attacco fra creature che ora vi faccio vedere vanno sempre messe in un certo modo perché ciascuno dei giocatori giustamente ha il suo lato del tavolo e il suo lato del tavolo deve essere sempre intorno quindi nelle adiacenze della scogliera e dell'oceano quindi dei mari quindi facciamo conto che la zona di gioco di questo giocatore ora ve levo un po' del casino che c'è sotto è questa questa è quella del giocatore A di qua ha la sua plancettina anche lui magari ce ne metto un po' a caso ovviamente con no questa qui mi serve con le sue evoluzioni quindi come vi ho detto prima ci metto anche un pochino di pescetti qui a caso così non riesco mai a centrarne uno ok quindi quando questo attacca questo vi ricordate i valori di questo meno il possibile valore di difesa di questo pesca direttamente da lui e se le mette di là e potrebbe anche ovviamente far estinguere una specie sia chiaro potete anche attaccare una delle vostre specie perché magari in quel momento lì vi serve di portarne avanti una rispetto ad altre perché vi ricordo che alcune carte alcune regole che ci sono scritto sopra vi permettono di levare un pescetto nella fase di invecchiamento e di metterlo dietro il vostro schermo e quei punti lì che togliete sono punti che andate a guadagnare per la partita che poi una rettifica rispetto a quello che vi ho detto prima i punti migrazione che vedete sulle carte abisso non li dovete pagare dai pescetti che avete sulla plancia ma li dovete pagare dai li dovete togliere dai pescetti che avete dietro il vostro paravento il vostro segnapunti quindi per questo vi dico che è da una parte rischioso ma sono anche potenti perché comunque te vai a perdere un punto a fine partita ma comunque per rinvigorire rischiando anche di farne molto di più con una carta abisso quindi quando si va ad attaccare valore di attacco meno valore di difesa però quando si va ad attaccare ci potrebbe essere di mezzo un'altra creatura ad esempio se questo giocatore avesse questa creatura qui quindi spostata un po' di qua e nel mezzo fra questa creatura che è la creatura in difesa e la creatura attaccante quindi fra l'evoluzione che attacca e quella che difende avesse un'altra cosa del genere ci sono creature con il tratto simbiotico che secondo me sono le più interessanti del gioco perché vi fanno guadagnare punti tra molte virgolette senza fare niente ma sono anche le più rischiose perché quando una creatura A attacca una creatura B e nel mezzo c'è una creatura simbiotica questa creatura a seconda del valore simbiotico che ha andrà a mangiare e a guadagnare direttamente dalla scogliera quindi questo cosa vuol dire che se un giocatore fa un valore di 6 di attacco meno 2 che vedete qua giù in fondo quindi fa 4 4 da qui vengono tolte vengono dimesse di là però lui automaticamente ne pesca 1 e ne pesca 1 prendendolo ovviamente dalla scogliera e se lo mette sopra se avesse un valore simbiotico più alto potrebbe andare a prendere massimo quant'era il valore dell'attacco se il valore dell'attacco era 4 anche se lui avesse 6, 7, 8 di più che è quasi comunque impossibile potrebbe pescare massimo 4 quindi non avendo fatto niente attacco attacco ok mi prendo direttamente 1 perché prende sempre quanto è il valore del simbiotico ragazzi le regole sono qui vengono in fondo il gioco finisce quando questa zona è completamente libera questa è libera questa è libera quindi quando non ci sono assolutamente più pesci né nell'oceano né negli abissi né nella scogliera c'è questa riserva dove dovete mettere questi pescettini colorati così tipo blu scuro un po' con delle scaglie un po' tipo celestine cose del genere dovete prenderli qua giù vedete scritto riserva aprite questa ziplock e praticamente aprendola le andate a buttare tutti quanti nell'oceano e praticamente questo andrà a sancire il round finale non li dovete finire questi e questi ci possono rimanere anche tutti però vorrà dire che avete ancora un turno tutti quanti per fare qualche punto e poi quando tutti avranno fatto un'azione la partita sarà finita ragazzi bene o male il gioco è qui vi dico la verità questo oceani era molto tempo che lo stavo aspettando perché mi sono appassionato abbastanza recentemente vi dico la verità all'argomento trattato no fin da piccolo io vi svelo un piccolo segreto le due cose che mi sarebbe piaciuto studiare all'università poi per un motivo per un atto sono andato a lavorare comunque nemmeno tanto di interesse che ci ho avuto e la voglia sarebbero stati archeologia classica e biologia dei fondali marini perché anche a me mi mette un po' paura l'idea degli oceani delle profondità della pressione dell'acqua che buio la sotto non vedi niente ho sempre avuto paura sinceramente anche di fare immersione e cose del genere però allo stesso tempo è una paura che mi affascina non è una paura che mi tiene a distanza e quindi l'argomento trattato nel gioco mi aveva già suscitato interesse da molto tempo tutta quanta la serie evolution anche quelle dei dinosauri che io adoro e quant'altro però questo qui essendo ambientato tutto quanto nelle profondità oceaniche mi aveva ispirata ancora di più è un gioco veloce l'avete visto con pochissime regole è un gioco che si spiega veramente io penso esagerando perché devi ripetere qualcosa in un quarto d'ora è un gioco che ha un flusso di gioco veramente veloce e poi la cosa bella si ci si alterna fra giocatori però uno deve fare tutte e quattro le sue azioni poi tocca all'altro giocatore poi all'altro ancora quindi alla fin fine basta che non ci sia uno particolarmente lento seduto al tavolo gira anche abbastanza veloce e non c'è la possibilità di andare a minare la mossa di qualcun altro perché te prima fai tutte le tue quando ti hai fatto tutte le tue se a posto tocca al giocatore successivo e quindi anche secondo me un flusso di gioco abbastanza costante semplice e se le devo secondo me anche come longevità si appresta comunque medio alta perché l'avete visto ci sono le carte evoluzione io posso far evolvere una specie in una maniera nella prossima partita in un'altra quindi sì per quanto alla fin fine vince chi guadagna più punti secondo me i modi per arrivare alla fine sono molteplici se le devo dare un voto a Doceni assolutamente un 9 su 10 meritatissimo è un gioco fresco è un gioco divertente è un gioco immediato è un gioco semplice da giocare e da spiegare e anche questo ancora una volta che secondo me sono i giochi della vita perché sono quei giochi che puoi portare a qualsiasi tavolo io come ho sempre detto quello che ha inventato Dixit è stato un genio perché Dixit è un gioco che io sono riuscito a portare in mezzo a gente a cui dei giochi da tavolo non gliene fregava niente anzi ci prendevano anche in giro e nerd fanno i giochi da tavolo tutta una serata per tre ore l'ho fatto giocare a Dixit e questi sono giochi che secondo me puoi mettere in qualsiasi tavola e oceani è uguale perché è un classico gioco che davvero si spiega veloce e puoi mettere ovunque fai divertire in più insegni qualcosa perché è anche un gioco comunque a livello scientifico molto importante quindi mentre giochi magari hai anche la fortuna di imparare qualcosa di più cosa che ho fatto anche io appunto giocandoci quindi 9 su 10 è meritatissimo io ringrazio veramente la Pendragon grazie anche della letterina che c'era dentro è sempre un piacere ragazzi non ricollaborare con voi a totale disposizione e primo link in descrizione dove acquistarlo direttamente dal sito della Pendragon più tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere con un commento cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima